Allora, benvenuta a tutte, cari amiche. Come vedete, insomma, sullo schermo, oggi realizzeremo insieme questa meravigliosa borsa. Allora, questo è un tessuto che io non avevo mai usato e devo dire invece che sono rimasta piacevolmente colpita. È un tessuto che si è adagiato al nostro disegno e ha queste cuciture meravigliose. Nel momento in cui lo si cuce, proprio assume queste queste forme meravigliose e devo dire che avevano da fuori una grande bella borsa. Allora, in questo momento nella mia borsa non c'è niente. Di solito si mettono i giornali o qualche tessuto. No, nel momento in cui noi abbiamo cucito, abbiamo messo l'ultima spalletta, che è quella in alto, cioè la borsa ha preso il suo volume. Ho scelto anche questo modello perché comunque non avendo cuciture visibili, una persona anche che parte in questo momento o comincia adesso, vedete, a usare la macchina da cucire, si sente un po' più sicura perché non essendoci cuciture esterne, quindi visibili, magari ha meno timore di provare insomma. E quindi è un modello che abbiamo studiato appositamente. Vedete, io le cuciture non le ho fatte neanche addirittura sui manici, le ho fatte sempre celati, che non si vedano. E quindi, insomma, è anche molto semplice da realizzare, basta seguire il nostro modellino del quale poi abbiamo dato tutte le misure. Quindi veramente vi auguro una buona visione. Allora, cari amiche, guardiamo un po' i materiali che ci serviranno per fare questa borsa. Ci servirà innanzitutto il neoprene. Eccolo qua. Io userò questo, verdino, verdone, insomma. Ci serviranno questi manici, che sono sempre un prodotto Tessiland, sono già pronti in realtà così, in neoprene. Allora, poi ci serviranno un po' di attrezzi di disertoria, insomma, le forbici o la rondella se ce l'avete, altrimenti usate le forbici. filo per imbastitura, il centimetro, va bene anche un centimetro moderno, non secolare come il nostro, gli spilli e poi certo magari gli aghi, qualcosa per scrivere, cioè va bene un gesto da sarta, vanno bene le nuove matite. Noi usiamo queste, in realtà, spesso, queste qua della Prim, insomma, poi gli aghi, un dittale, queste cose così. Una cosa importante, noi useremo, insomma, per fare il cartamodello, perché questo faremo a tutti gli effetti, anche se non useremo proprio il foglio per cartamodelli di sartoria, perché abbiamo deciso di usare un foglio con dei quadrettini, eh, 5x5, eh, in modo tale che anche voi siete un po' più facilitate a capire le misure, il modello in generale, perché su un foglio completamente bianco è più difficile da percepire la forma che ha la nostra borsa, quindi abbiamo pensato di usare comunque dei fogli a quadretti. Li abbiamo un po' attaccati insieme per avere tutto il cartamodello insieme, perché questa sarà una borsa veramente molto semplice. Abbiamo cercato di fare una borsa con le minor cuciture possibili, insomma, e quindi niente, faremo il cartamodello, quindi ci serviranno delle squadre. È normale che non si può pretendere che tutti in casa abbiano delle squadre da sarta, quindi abbiamo cercato di fare alcune forme, soprattutto quelle tondeggianti, con alcuni oggetti che per chi fa questo tipo di cose, ben o male in casa ha, in modo tale da evitare anche l'uso delle squadre da sartoria. Allora, detto questo, non ci rimane che incominciare il nostro lavoro. Allora, cari amiche, ecco, come abbiamo detto, la prima cosa da fare per l'appunto è il modello della nostra borsa, e quindi abbiamo fatto un cartamodello. L'abbiamo fatta per l'appunto su quadrettini in modo tale che voi la vediate meglio, insomma, che non sembri solo uno sfondo bianco. Grazie ai quadrettini riusciamo anche a percepire la distanza, vedete? Allora, che cosa ho fatto? Io ho fatto, scusate, così, io ho fatto in realtà un cartamodello unico, vedete? Questa sarà la parte frontale, questa sarà il retro e questo sarà il fondo della nostra borsa. Allora, il cartamodello l'abbiamo fatto tutto intero per comodità noi, però voi potete anche farne una sola parte, cioè nel senso, questa per esempio è la parte frontale, anzi vi do questa che c'ha le misure. Allora, per esempio, questa è la parte frontale della nostra borsa, è uguale praticamente al retro, tutto e per tutto, sia in altezza che in larghezza. Dopodiché c'è il fondo, queste sono le due parti di cartamodello che voi dovete fare, perché questa può essere replicata anche dall'altra parte, il fondo è a sé. Invece l'ho unito proprio per farvi capire come veniva fuori il modellino, insomma, viene su così, vedete? E poi ci sarà questo, allora, ci saranno praticamente questi due rettangoli che hanno una, il rettangolo ha una larghezza di 23,5 e un'altezza di 26 in realtà, ma noi l'altezza la lasciamo tutta, la lasciamo a 27,5, perché questi centimetri ben definiti? Perché noi comunque abbiamo un tessuto che è alto 65 cm, io questa altezza la userò tutta, quindi non c'è bisogno di tagliare. Poi ci sarà il nostro fondo che praticamente ha una larghezza di 10 e una profondità, scusate, ha una larghezza di 10 e una lunghezza di 30 cm. Allora, come vi avevo preannunciato, abbiamo cercato di usare, scusate, per dare forma al nostro cartamodello, alcune cose che voi potete già avere in casa, quindi ho usato per fare la forma del mio fondo, proprio un fondo, di quelli che noi usiamo per le borse, da 30 a 31 va benissimo. Vedete, l'ho posizionato in questo modo e praticamente ho fatto il mio cartamodello. Niente di più, niente di meno. Poi, che cosa ho fatto? Nel momento in cui finisce la tondeggiatura, vedete, la parte tonda del mio fondo e incomincia quella dritta, vedete, io che cosa ho fatto? Ho tirato su, praticamente, la spalletta di un lato della borsa, insomma. Niente di più, niente di meno. Quindi un modellino veramente, veramente semplice da eseguire. Allora, il secondo cartamodello che ci serve per il corpo borsa è il laterale, giustamente. Allora, il laterale è un semplice rettangolo, vedete? È questo qui. Se voi, allora ve lo faccio vedere dall'altra parte, si vede meglio. Deve fare proprio questo, vedete? Così. E quindi è un laterale che ha una larghezza di 13 centimetri e mezzo. Allora, per il momento vediamo solo questi due cartamodelli. Poi, man mano, cercheremo di costruire insieme la nostra borsa. E ogni passaggio, poi ve lo sapete, se c'è qualcosa da indicarvi, non vi preoccupate. Comunque, noi vi diciamo tutti i passaggi della lavorazione. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare il nostro modello che abbiamo su carta, lo dobbiamo riportare sul tessuto. e quindi... Allora, eccoci qua, caramiche. Noi praticamente abbiamo fissato il nostro tessuto al cartamodello. Vedete? In questo modo. Abbiamo usato le attache. E poi possiamo fare i nostri bordi così, proprio come se fosse un disegno, no? Ripassando i bordi, sia con questa, che va benissimo, ma anche con del normalissimo gesso da sarta. Vedete? questo qua. Allora, fatto per benino il bordo e facciamo tutto il resto dei bordi e dopodiché ci vediamo. Facciamo anche questo, eh. L'altro cartamodello lo facciamo dall'altra parte. Oppure prima tagliamo questo e poi facciamo quello. Insomma, come meglio credete voi, che vi sentite più tranquilli, insomma. Allora, finiamo di fare tutti i bordi come vi ho fatto a vedere in questo momento e dopo ci vediamo. Allora, caramiche, eccoci qua. Vedete? Ho sul lato chiaro, secondo me, si vedeva poco il disegno sul tessuto. Quindi io ve l'ho girato in modo tale che, insomma, voi possiate vederlo bene, il disegno del tessuto. E ve l'ho anche imbastito. Vedete? In modo tale che riuscite veramente a vederlo. Vedete? Io sono arrivata fino a su perché ho mantenuto tutta l'altezza del tessuto. Il centrale ho fatto il fondo, vedete, e i due laterali. Di solito in sartoria quando si fanno due parti uguali non si lavorano mai separatamente, si lavorano insieme. Però sono tecniche di sartoria un po' più specifiche, insomma. Noi cercheremo di fare un modellino che, insomma, possiate farlo tutto, insomma. Se invece siete già brave nella sartoria, potete anche fare i pannelli separati, lavorati insieme in modo tale che siano perfettamente uguali e il fondo a sé, in modo tale che poi fate le cuciture anche per i laterali e per il fondo. Allora, detto questo, che cosa facciamo? Allora, una volta che abbiamo il nostro disegno sul tessuto, a un centimetro di distanza, vedete, dal nostro bordo di disegno, taglieremo il tessuto. Quindi, per tutto il disegno, taglieremo sempre a un centimetro di distanza. Quindi, se io ho il fondo qua, a un centimetro taglierò. Allora, io taglierò con la riga e con la rondella di taglio. Se voi non avete la rondella di taglio, non vi preoccupate, tagliate tranquillamente con la forbice. Un accorgimento. Prima di tagliare, prendete due punti. Cioè, uno all'inizio, perlomeno, di una linea e uno alla fine. In modo tale che, anche se fate con la forbice, cercate di andare dritte. È normale che, se avete difficoltà, fate direttamente un'altra linea di bordo, a un centimetro di distanza, e poi dopo tagliate. L'unica cosa, mi raccomando, quando si taglia, si guarda il punto d'arrivo, mai quello di partenza o a metà. Quindi, lo sguardo deve essere lungo sul tessuto. Perché noi, guardando il punto di arrivo del taglio, andiamo dritte, insomma. Ecco. Allora, facciamo questa cosa. A un centimetro di distanza dai bordi, tagliamo il nostro tessuto e poi ci rivediamo. Allora, è normale che la stessa cosa faremo per i laterali. Una volta che abbiamo il cartamodello, facciamo anche i laterali. Allora, una cosa volevo, come dire, specificare. Cioè, è vero che io il modellino l'ho fatto del corpo borsa, vedete? L'ho fatto sulla parte scura, per farvelo vedere. Quando lo fate voi, dato che la parte scura sarà la parte del corpo borsa visibile, cioè quella che va all'esterno, cioè è normale che voi tracciate magari il modellino all'interno. Cioè, il disegno lo fate all'interno, quindi lo fate sul chiaro. E invece, in questo momento, che io sto lavorando i laterali, e i laterali, invece, saranno in chiaro, saranno da questa parte, è normale che io il disegno lo faccio qui sopra, sulla parte scura, che vedete? Non è che si vede tantissimo. Ecco perché ho usato un bianco sulla parte scura, altrimenti se uno usa un colore meno visibile non si vede. Allora, detto questo, facciamo anche i laterali, come abbiamo fatto il disegno sul corpo borsa. Tagliamo sempre a un centimetro di distanza dal disegno, tranne che per la parte è alta, perché ce la prendiamo tutta, non tagliamo il tessuto, nella parte in basso certo, e prendiamo sempre un centimetro. Dopodiché vi faccio vedere come si imbastisce la borsa. Allora, per la verità, io la parte da questa parte l'ho già fatta, vedete? In modo tale che vi faccio vedere come si fa. E quindi stavo pensando che, generalmente, queste cose si parte dal fondo, no? Si fa il fondo e poi si ritorna in su. In questo caso, direi, consiglierei di cominciare invece dall'alto, perché in modo tale che, insomma, qui se c'è un errore anche minima di misurazione, si vede. Mentre nel fondo, poi in qualche modo, uno la può celare. Ecco. In questo modo, vedete, allora, questo è il nostro corpo borsa, la parte scura, vedete? Dove si vede il segno. Poi io questo è normale, lo cancello. Basta una pezzetta umida. Ripeto, l'ho fatto solo perché così voi lo possiate vedere. Voi fatelo dalla parte chiara. E invece, quando è sui laterali, invece la fate dalla parte scura. Allora, noi cuciremo qua, vedete? Come? Proprio in questo modo. Vedete? Scuro su scuro. La parte scura la dobbiamo vedere, la parte scura la dobbiamo vedere, perché noi cuciamo qui, imbastiamo in questo momento qui, perché poi questa parte andrà così. E quindi la nostra cucitura rimarrà nascosta. Quindi, mettendo bene in linea la parte superiore, in questo modo, così, sulla parte alta, vedete? Allora mettete la tascia. Partiamo con l'imbastitura. È normale, mi raccomando, un centimetro e un centimetro dal nostro modello. Quindi, se il modello l'abbiamo disegnato da questa parte e dall'altra parte, ci deve essere questo spazio che deve essere un centimetro, sia nella parte sottostante che nella parte superiore. Questo ci aiuta molto se la misura è giusta. Se noi abbiamo tagliato tutto a un centimetro di distanza, è una cosa che in questo momento ci aiuta veramente tanto. In caso mai non ne siete certe o sicure seguite entrambi i disegni. C'è nel senso che, adesso vi faccio vedere. Allora, vedete? Io qua non l'ho disegnato, ma io ho l'imbastitura, la prima che ho fatto. Quindi, entro nell'imbastitura, giro il lavoro, guardo il mio disegno anche da questa parte e poi infilo l'ago. Se invece sono sicura di aver fatto un disegno esatto, posso anche fare questo e andare avanti tranquillamente, perché sono sicura che dov'è il mio disegno davanti c'è anche dietro e quindi io non devo guardare. E diciamo che l'imbastitura viene molto più veloce. Avviene, no? E continuiamo a imbastire in questo modo per tutta la parte lineare e poi magari ci rivedrà e ci rivediamo nell'angolo. Allora, eccoci arrivate nell'angolo e questo diciamo che è il primo indice di precisione, cioè se noi siamo stati precisi nel disegno è tutto lì. L'importante è che si faccia un disegno preciso sulla stoffa, perché giustamente il nostro angolo sul laterale, adesso verde sul verde non lo vedete, però il nostro angolo sul laterale, che è qui, vedete dove io ho il lago, deve combaciare con il nostro angolo del fondo. Questo è il fondo, vedete? Deve combaciare con questo. Allora, a questo punto, avendo fissato il nostro angolo, che cosa facciamo? Vedete, io ho sfilato l'ago, ho lasciato il mio filo di imbastitura. Io direi che prima di continuare sull'angolo, per facilitarvi ancora di più le cose, che cosa facciamo? In questo punto l'angolo gira, vedete? L'angolo deve girare. Allora, che cosa facciamo? Vedete che ho fatto due segnetti, in modo tale che io mi auguro che siano visibili, perché questo verde è molto scuro. Allora, ve l'ho fatto anche sul chiaro, vedete? Allora, ho fatto un segno a metà del nostro fondo, vedete questa parte tondeggiante, e la metà l'ho trovata anche sul nostro laterale, che non si vede. Allora, come vi dicevo, fissiamo questi punti e ritorniamo praticamente dall'altra parte, vedete? Praticamente, una volta fissato l'angolo e fissato il centro del nostro fondo, il resto del tessuto, se noi lo spostiamo in base a quello tondo, si sistemerà da solo, senza alcun tipo di problema. E quindi noi continuiamo a praticamente cucire in questo modo. Vedete? Facciamo in modo che il nostro angolo tondeggi, così. Guardando avanti e indietro, in questo momento, in modo tale che siamo certi che prendiamo il tessuto giusto e siamo arrivati al nostro centro, in questo modo. Vedete come ha tondeggiato in realtà il nostro tessuto? Senza alcun tipo di problema. Vedete come il tessuto, nonostante abbia centimetri in più rispetto al nostro fondo, in realtà si sia adagiato alla perfezione sul nostro fondo. Faremo la stessa cosa dall'altra metà di fondo e poi ci vediamo. Allora, una volta che abbiamo cucito per bene il nostro fondo, ci rimane, vedete, solo una parte, l'altra parte laterale, ma non continuate. Questo è un consiglio, sempre per lo stesso motivo. Io vi consiglierei di ricominciare dall'alto, in questo modo, esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte. Dopodiché ci vediamo. Siamo passati alle macchine da cucire, adesso cuciremo tutto ciò che abbiamo imbastito. E poi, volevo dire, prima di cucire, una cosa sul filato che useremo per questo tessuto. Cioè, è normale che, va bene, noi è normale che abbiamo più colori di uno stesso colore, cioè più sfumature di uno stesso colore. Allora, su colori doppi come questi, o usate un colore molto simile a uno dei due e sull'altro, per esempio, se useremo questo scuro, sull'altro risulterà un chiaro scuro, oppure decidete di usare una tonalità di verde completamente diversa da entrambi, vedete, oppure userete uno come questo. Vedete, questo è un verde un po' più acido e si avvicina moltissimo a quello chiaro, vedete. E a me piace di più, mi piace anche l'effetto che ha poi sull'oscuro, quindi io userò questo. Però voi, in base ai vostri gusti, insomma, scegliete anche il filato da adoperare poi per cucire la borsa. Allora, eccoci qua, mica. Abbiamo cucito tutta la nostra borsa, quindi tutte le sue parti. Adesso ho messo del filato dentro per farla vedere per bene. E vedete come viene carina con questa divisione di colori. Adesso non si vede benissimo, ma poi ve la farò vedere, insomma. Allora, a questo punto, fatto questo, che cosa facciamo? Allora, innanzitutto, se siamo state brave nel taglio, ci rimarranno due pezzi come questi, vedete, dal nostro pezzo di stoffa, insomma. Ma altrimenti, voglio dire, uno, se vuole farlo un pochino più grande, ne può. Io, in realtà, ne avevo due pezzi, perché ho detto, vabbè, se è in caso mai, poi voglio fare un modello diverso, voglio fare una patta, voglio fare una spalletta. Insomma, io avevo due pezzi, in realtà, cioè ho due pezzi. Però, insomma, con un pezzo di questo tessuto si riesce a fare una borsa più o meno come questa, e questa che ho fatto io. Allora, faremo, per l'appunto, le spallette il disegno che poi vi faccio vedere. Poi, un'altra cosa che faremo, giustamente, è la fodera. Adesso, che cosa facciamo con questa fodera? Esattamente quello che abbiamo fatto per la borsa, cioè ripasseremo il nostro carta modello sulla fodera. Vedete? Questo è la parte dei laterali. Anzi, se volete fare una cosa un po' più semplice, per non rifare tutto il bordo, degli angoli, eccetera, eccetera. Che cosa facciamo? È molto semplice. Invece di fare l'angolo in questo modo, che cosa facciamo? Facciamo un parallelepipedo. Niente di più, niente di meno. Quindi, arriviamo con i nostri laterali fino alla fine del fondo. Quindi, non avremo più un rettangolo con queste misure, ma avremo un rettangolo che è lungo, scusate, è largo quanto il nostro fondo. Il nostro fondo è da 30, vedete? Quindi, anche i laterali sarà un rettangolo in questo modo. Sarà un rettangolo largo 30 e alto tutta la lunghezza del nostro tessuto, quindi 65 centimetri. E poi, i laterali, invece, giustamente non avendo più i laterali tondeggianti, non abbiamo più bisogno di così tanto tessuto, perché dovremmo coprire solo una parte lineare, vedete? E quindi, se faremo dei rettangoli come questo, larghi non più 13,2, ma soltanto 10 più 2. Allora, eccoci qua, vedete? Abbiamo disegnato su questa striscetta la nostra parte di fondo, senza il buchino centrale, né da una parte né dall'altra. Poi, che cosa faremo? Così ci avvantaggiamo un po'. Praticamente, imbastiremo, vedete? A filo, come l'ho messo io, scuro su scuro, vedete? Questa chiara deve andare dentro. Imbastiremo proprio sul nostro disegno come abbiamo imbastito la borsa fino adesso. Quindi, imbastiremo questa parte superiore. Faremo questa cosa sia da questa parte che dall'altra e dopo ci vediamo. Allora, cari amici, ricapitoliamo un attimo, altrimenti ho paura che poi vi perdiate, insomma. vedete? Io sto lavorando a rovescio, cioè ho girato la borsa, quindi sono al contrario e ho imbastito, come vi dicevo, la parte superiore. Sto imbastendo praticamente sia la chiusura alla parte superiore e ho fatto già alcune cuciture, in modo tale che voi possiate vedere l'una e l'altra. Vedete? Questa parte, invece, della chiusura è già stata cucita. Allora, facciamo queste altre piccole cose e poi ci vediamo. Allora, cari amici, eccoci qua. Siamo praticamente alla fodera. Una piccola indicazione per la fodera. Allora, è normale che se è la prima volta che cucite fate l'imbastitura, perlomeno una imbastitura. Se siete, insomma, già bravine a cucire e, come me, insomma, a me imbastire non piace tantissimo. Allora, quello che io sto dicendo in questo momento, da alcune persone della mia famiglia vi sentiscono altamente, cioè nel senso che loro veramente imbastiscono tutto, anche la mia mamma imbastisce sempre tutto, nonostante cuciano da anni. Però, insomma, ripeto e dico, per le persone che non piace l'imbastitura perché la trovano noiosa, io sono una di quelle, trovo noioso imbastire, che cosa faccio? Faccio un disegno fatto veramente bene. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, tipo questo è il nostro laterale, giusto? Vedete come lo faccio io il disegno? In questo modo, cioè, c'era anche un'altra linea qua, è dove dove io ho tagliato. Quindi, c'è una prima linea, poi c'è la seconda, un centimetro, dove andrà la nostra cucitura e, vedete, questo viene fatto per tutti i bordi della fodera. E vi faccio vedere una parte che ho già cucito. Questa, vedete, io ho cucito praticamente senza imbastire. Vedete? Perché tanto, io so perfettamente che il centimetro che ho da questa parte, io ce l'ho anche da quest'altra. E, vedete, non si vede più il mio tratto, cioè il mio disegno, proprio perché le cuciture, cioè il disegno che ho fatto in precedenza, cucendo da una parte, io sono sicura che vado dritta anche sull'altra. È normale che bisogna stare attenti, no? Le prime armi, fate un bel disegno. Mi raccomando, il disegno aiuta tantissimo nella sartoria. O, in questo caso, sartoria maccheronica, come dice la mia mamma. Scusate. Se, invece, siete già bravine, potete anche cucire, sempre facendo un buon disegno sotto, senza imbastire, insomma. Altrimenti, imbastite. È normale che un vero lavoro di sartoria, in realtà, l'imbastitura non è addirittura una, ma spesso due e anche tre a volte. Quindi, come dire, cerchiamo, invece, di rendere più leggeri questi lavori. Ecco. Allora, ed eccoci qua. La nostra fodera è stata cucita interamente. È proprio un parallelepipedo. Vedete? Mi raccomando, io ho fatto sia la cucitura dritta, vedete? E poi, una volta che abbiamo cucito, abbiamo fatto tutto lo zigzag su tutta la borsa. Allora, cari amici, eccoci qua. La nostra borsa è stata cucita interamente. Tutto. Anche sopra, vedete, abbiamo fatto la spalletta, tutti i lati. Poi è stata ripulita, no? Da tutti i fili di lavorazione di imbastitura. Adesso non ci resta che assemblare. Quindi, come vi dicevo, assembleremo la prima cosa, assembleremo i manici. Dopodiché, assembleremo, monteremo anche la sua fodera. La prima cosa da fare è questa. Cioè, decidiamo dove sistemare i nostri manici sulla parte. Allora, noi l'abbiamo fatto. Vedete? Questi due filini bianchi. Questo e questo. Indica dove andremo a mettere i nostri manici. Allora, quando mettiamo i nostri manici, vedete? Allora, questo è il centro del manico, più o meno. Vedete? E quindi andrà qui. Vedete il mio ago? Invece, prima di fare questo lavoro, cioè di attaccare il tessuto, la prima cosa che dobbiamo veramente legare bene non è il tessuto, ma è il cordone che è all'interno del manico. È questo che sorregge la borsa, non di certo il tessuto. Allora, che cosa facciamo? Noi puntiamo l'ago un pochino più su. Vedete? Rispetto a dove deve venire. Questo è il centro della nostra fogliolina, chiamiamola così. È questo centro. E quindi il manico è un pochino più su. Vedete? E come lo fissiamo? Esattamente come fissare un bottone. Quindi, come un bottone a due buchini. Quindi andremo da sotto, entrate da dietro, tirate sull'ago, fate questo, poi andiamo giù, così, mettendo una mano all'interno, tiriamo il nostro filato. Poi ritorniamo su, così, riprendendo sia il tessuto che il nostro cordoncino. Vedete? Così. Allora, io direi di fare questa operazione per un due volte sempre sullo stesso punto, come un bottone. Poi ci spostiamo di un pochino e lo rifacciamo. E facciamo questi passaggi e ripassiamo sempre due volte. Poi ci spostiamo un altro pochino e lo rifacciamo. in modo tale che il nostro cordone abbia veramente la possibilità di poi reggere la borsa. Dopodiché cuciremo questa, poi vi faccio vedere, insomma. Questi qua, praticamente, vedete che bella fogliolina, in realtà, che sono di loro. Quindi io non voglio fare una cucitura sul mio tessuto. Facendo una cucitura andrei a modificare l'effetto che ha in questo momento. Vedete che sembra proprio una decorazione, basta. Che cosa faccio? Faccio delle cuciture sottostanti, celate, che non si vedano. Tanto queste qua sono soltanto decorative. Il manico, in realtà, è tenuto proprio dal filato. E quindi queste cuciture saranno all'interno. In questo modo a me deve soltanto fermare, praticamente, la fogliolina. Quindi che cosa faccio? Farò un punto sul tessuto, in questo modo, vedete? E poi un punto sulla nostra fogliolina. Così. In questo modo. In modo tale che me la fermano, ma non sono strutturali, diciamo, questi punti celati, per l'appunto, per tutti e tre i manici restanti. Dopodiché ci vediamo. Allora, cara amica, ci siamo. Abbiamo attaccato i nostri manici e adesso vi faccio vedere dove attaccare la fodera. Allora, vedete la nostra spalletta? E questa è la cucitura della spalletta? E questa qua. Allora, noi imbastiamo la fodera qui sopra, vedete? Qui. Proprio su questo centimetro di... Questo è il centimetro di cucito, di taglio, no? Ecco. Noi la imbastiamo qui sopra, per benino. Adesso. L'ho messa al dritto, ma lavorate al rovescio della borsa, cioè la rigirate su se sezza e lavorate da dietro. Io l'ho messa al dritto proprio per farvi capire dove e come. In questo modo. Dopodiché facciamo la cucitura a macchina, no? Dopo che abbiamo imbastito, sempre su questo centimetro facciamo la nostra cucitura. In modo tale che si vedrà sulla fodera una sola cucitura. È normale che, se siete già brave nel cucire, questo è un lavoro che può essere fatto quando noi attacchiamo la spalletta. Abbiamo fatto questo tipo di modello, se voi lo guardate, perché non ha alcun tipo di cucitura visibile, cioè esterna. Quindi anche una persona che in realtà non è così brava nel cucire a macchina può fare questo modello. Perché tanto le cuciture con la macchina restano tutte celate. Quindi una si sente un po' più tranquilla, anche se non va dritta in questo modo, vedete? Sulle cuciture e tanto esternamente non si vedrà niente. Poi è un modello, è un tessuto che si modella molto bene e quindi la cucitura verrà un po' celata. È normale che, insomma, la cucitura non è che può essere proprio... Però se c'è un piccolo difetto proprio non si vede, insomma, perché è tutto celato, vedete? Non c'è una cucitura esterna, neanche sui manici ve lo fate le cuciture esterne, no? In modo tale che non abbiamo quell'ansia di dire, oddio, adesso devo cucire, chissà come andrò. Con questo modello voi state tranquille, ecco. Allora, facciamo questo lavoro di attaccare la fodera e di cucire la macchina e poi ci vediamo. Allora, eccoci qua, cari amiche. La nostra borsa è finita in tutte le sue parti, quindi tutti i suoi pezzi. È venuta una borsa molto carina, molto leggera. Questo è un tessuto leggerissimo, quindi la borsa di conseguenza è leggerissima. Ed è veramente... io non pensavo venisse così particolare, insomma. Però è venuta veramente molto, molto, molto carina. Guardate un po' che carina che è. Con questi doppi colori. Allora, dato che la realizzazione, come vi dicevo, è molto semplice perché non c'è nessuna cucitura esterna, vedete? È molto pulita la nostra borsa. È molto semplice da realizzare. Allora, detto questo, io mi sembra ad aver detto tutto, noi col tutorial abbiamo finito. Io vi ringrazio di essere state insieme a noi e vi aspetto per il nostro prossimo tutorial. Vi ricordo che abbiamo un sito, una pagina Facebook, un gruppo e ci farebbe piacere la vostra iscrizione. E seguiteci soprattutto su YouTube per i nostri altri tutorial. Grazie ancora veramente di cuore.